La lingua è nostra e guai a chi ce la tocca. Non è la prima volta che la rete, troppo spesso un ricettacolo di polemiche, astiose e soprattutto inutili per comprendere il problema che le ha generate, dimostra invece questo accorato attaccamento alla lingua del sì, del bel parlare gentile, quella lingua che definiamo la più bella del mondo, senza alcuna ragione filologica, ma con tante ragioni di cuore. Ecco allora che gli italiani che si sono indignati per l'uso scritto di scendi il cane e che vedono il neologismo trecaniano Ferragnez come fumo agli occhi, si meritano un museo della propria lingua. Un'idea che il linguista Giuseppe Antonelli ha già avuto per un suo recente libro e che il suo maestro, Luca Sirianni, ha sdoganato fin sulle pagine della Repubblica. Un museo interattivo ma anche fisico, con codici riprodotti, copie anastatiche degli originali, per camminare tra le parole che fondano il nostro pensiero e sono il nostro più grande tesoro. Sarà forse questo museo a sancire chi dei tanti neologismi supererà la prova del tempo, perché i grammatici nulla possono contro l'uso diffuso tra i parlanti, oggi come ai tempi della tarda antichità, quando il latino cedette il passo allo sgomitante volgare. Ma questa è un'altra storia e se visiterete il museo sicuramente ne saprete di più.